Oggi ricordo, non lo fanno i singoli, voi vedete che è una manifestazione di affetti impressionanti. C'è tutta via Tardeglia piena, stanno arrivando un flusso che pare dieci volte quello che noi vediamo tutti. E queste cose accadono quando c'è veramente non un'ammirazione solo, ma quando c'è un grande affetto. Che ricordo è lei di Lucio Dalla? Ci troviamo sempre qui e il ricordo è la piazza Maggiore, è sempre una piazza di India, è il nuovo ricordo, la pagina di Celestino, il Santo Stile, ma è il portico, è il portico. Grazie. Qual è la canzone che ama di più precedenti?